Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di rifiuti e raccolta differenziata. E' di nuovo emergenza e intanto la terza commissione consigliere permanente bilancio e programmazione chiede ed ottiene dal presidente dell'assise civica una seduta del Consiglio Comunale per trattare l'adozione del regolamento sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Sentiamo. E' stata fissata per domani 14 luglio alle ore 20.15 in prima convocazione una seduta del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e urgente per la trattazione della proposta di adozione del regolamento. Servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani assimilati. Salvatore Scerra, terza commissione consigliere permanente, bilancio e programmazione. In riferimento alla nota inviata dalla presidenza della regione siciliana, il Consiglio Comunale e soprattutto le tre commissioni, bilancio, affari generali e ambiente e sanità, ci siamo riuniti per adottare un regolamento per quanto riguarda il sistema rifiuti che sappiamo benissimo che c'è un'emergenza totale in tutta la Sicilia e non solo a Gela. Su Gela invece noi chiederemo all'amministrazione quindi di attuare soprattutto il regolamento che noi abbiamo studiato con le tre commissioni e cercare di incentivare soprattutto quelli che differenziano e punire chi non rispetta le regole. Prima come consigliere comunale, poi insieme a tutta la commissione bilancio abbiamo chiesto e soprattutto ottenuto il consiglio straordinario per quanto riguarda questa approvazione quindi un ringraziamento vale al Presidente del Consiglio e quindi noi già domani sera possiamo adottare questo piano. Ovviamente abbiamo portato delle modifiche sulle linee guida da attuare e quindi speriamo che questo piano venga recepito ben presto dall'amministrazione. Successivamente diciamo che come commissione bilancio andremo a fare un regolamento per quanto riguarda la Tari però vorrei fare un appello alla città un appello a differenziare di più, a essere meno negligenti e soprattutto a non buttare gettare la spazzatura fuori dagli orari e soprattutto nelle zone periferiche della città dove c'è meno controllo. Cerchiamo di mantenere pulita la nostra città ne vale la pena e soprattutto andiamo a diminuire la Tari successivamente. Siamo alla cronaca, avrebbe ucciso la convivente moldava di 36 anni per poi togliersi la vita al centro della tragica vicenda il gelese 51enne Antonio Missud da tempo residente a Torino. La donna è stata trovata sgozzata ed è Diana Gogoria. I due vivevano in uno stabile alla periferia del capoluogo piemontese. Non è da escludere che dietro al presunto omicidio-suicidio possano esserci ragioni passionali. I rompono in casa armati di fucile e minacciano di morte la vicina. Due coniugi licatesi sono stati arrestati dai carabinieri delle nucleo operative radiomobile della compagnia di Licata nel corso di un servizio di controllo del territorio. Le manette sono scattate i polsi di Salvatore Moscato, 56 anni, e Rosalia Milana, 44 anni, in particolare militari dell'arma. A seguito di una segnalazione sono intervenuti sul posto nel quartiere San Paolo di Licata, dove due coniugi, per futili motivi connessi a dissidi di natura privata, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti all'interno dell'abitazione dei vicini di casa, posta al primo piano dello stesso stabile, minacciando di morte la quarantenne vicina di casa, puntandole un fucile da caccia a semi-automatico calibro 12, regolarmente denunciato. I carabinieri intervenuti tempestivamente hanno disarmato il 56enne pensionato licatese, che non ha opposto resistenza ai militari dell'arma. Gli arrestati sono stati ristretti all'interno delle camere di sicurezza della compagnia Carabinieri di Licata, in attesa dell'udienza di convalida a disposizione dell'autorità giudiziaria. 7 infrazioni rilevate, 50 persone controllate, 3 denunciate per uso personale di sostanza stupefacente a Niscemi. E questo è il bilancio dei primi controlli nei locali della Movida Nisce-Mese, dove si svolgono serate di intrattenimento musicale. In azione la polizia amministrativa e gli uomini della squadra volanti e della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Niscemi. I controlli sono finalizzati al contrasto di illeciti amministrativi e attività abusive. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per tutta la durata della stagione estiva. Oltre 60 minuti di panico ieri sulla spiaggia del lungomare di Gela nei pressi della Conchiglia. Un bambino di circa 5 anni si è smarrito ed è stato prontamente condotto presso la caserma della Capitaneria di Porto da alcuni bagnanti. Il racconto del comandante Pietro Carosia. Verso le 17 di ieri, ieri pomeriggio, si sono presentati in Capitaneria dei bagnanti delle signore che avevano con loro un bimbo di circa 5 anni. Spaventatissimo, anzi direi scioccato addirittura, dicendo che non trovava più i genitori, non trovava più la mamma. Immediatamente io per primo mi sono alzato dalla scrivania, ho allertato tutti gli uomini e nel giro di pochi istanti c'erano circa una trentina di persone della capineria in spiaggia per cercare i genitori di questo bimbo. Naturalmente abbiamo anche immediatamente allertato i colleghi dei carabinieri, della polizia, sono intervenute le relative pattuglie. Fortunatamente poi i miei uomini hanno trovato la mamma del bimbo che era in direzione raffineria oltre la conchiglia. E tutto si è concluso per il meglio, nonostante il bimbo si fosse perso da più di un'ora. Ora, questa volta è andata bene, dico io. Quello che raccomando sempre e quello che ho detto anche alla signora, vista anche la conclusione felice di questo evento. Quando dovesse succedere, e spero che non succeda mai, e lo dico da papà, da genitore, a nessuno, ma semmai dovesse succedere che uno dei vostri bimbi si allontani, può capitare perché i bambini certe volte attirati da un pallone, da qualsiasi cosa che ci può essere a mare. Basta girare un attimo lo sguardo altrove e subito dopo non troviamo più il nostro figlio. La prima cosa è allertare immediatamente le forze dell'ordine, chiamare il 1530 la Guardia Agostiera. Ricordatevi che le nostre pattuglie sono sempre in giro, come ieri abbiamo agito nel giro di pochissimi istanti, nel giro di pochi minuti, si può fare ovunque questo. Le nostre pattuglie sono continuamente in giro, ci sono i nostri mezzi aerei che sorvolano non gela continuamente, l'avete visto anche nei giorni scorsi. Quindi vi prego di allertare immediatamente il 1530. Ricordo che anche chiamando al cellulare non risponde più la centrale operativa di Roma, ma rispondiamo direttamente noi perché si aggancia la cella del cellulare al compartimento di appartenenza e di fare molta attenzione ai nostri bimbi che sono al mare. Ricordatevi che il mare è un qualche cosa di meraviglioso, però deve essere sempre rispettato. È un luglio caldissimo, quello che sta attraversando la città di Gela. Moltissimi si riversano al mare per trovare refrigerio. Tra questi tante famiglie con figli piccoli al seguito. Come affrontare serenamente la bella stagione, la bella e calda stagione che rompe con le sue temperature così elevate? Ce lo spiega il pediatra Cristoforo Cocchiara. Lo sentiamo. Dottore Cocchiara, è un luglio caldissimo a Gela. Immaginiamo che siano già state tante le richieste da parte dei genitori per capire che condotta può renessere nei confronti dei bambini, sia al mare che quando si decida di fare una passeggiata all'aperto. Sì, in effetti quest'anno è un luglio molto caldo, contrariamente all'anno scorso che in effetti dove le temperature sono state più miti fino a tutto agosto. Le regole sono quelle di sempre. I bambini vanno esposti poco al caldo e nelle ore protette. Quindi significa se portiamo a mare questi bambini di mattina li porteremo a mare alle 8 e mezza e massimo alle 10, 10 e mezza li riporteremo a casa, mentre se ci andiamo in pomeriggio dopo le 16 e 30. I bambini vanno ugualmente protetti con fattori protettivi 50. Non ci sono più quelli ad altissima protezione o ad alta protezione, ma i fattori sono indicati numericamente e il fattore 50 è quello per i bambini. E poi valgono le altre regole, quello di bere tanta acqua, mangiare frutta e verdure in maniera particolare. L'acqua, quella oligominerale, ma qualsiasi acqua va bene. Evitare bevande gassate, evitare Coca-Cola, aranciate, bibite. Per gli adulti evitare le bibite alcoliche che in ogni caso fanno male. E invece, dottore, per la merenda i genitori come devono comportarsi anche al mare? Bene, al mare bisogna portare frutta. In questo modo i bambini si saziano e nello stesso tempo non mettono più calorie e fanno un pasto sereno. Così possono permettersi anche di andare in acqua tranquillamente. E così sono tranquilli loro e tranquilli noi. In estate l'incidenza delle dermatiti è superiore rispetto alle altre stagioni. E se sì, perché e come gestirle? Sì, è superiore perché è facile. Con queste alte temperature i bambini, ma anche gli adulti, sono esposti ad infezioni della pelle. Bisogna intanto gestirle in maniera naturale. E quindi se noi proteggiamo questi bambini con i fattori protettivi, dicevamo il fattore 50, negli adulti anche il fattore 30 può andare bene. e con esposizioni, evitando le ore di maggiore esposizione al sole, allora in questo caso noi eviteremo anche la possibilità di avere più dermatiti fotosensibili. Tra l'altro la prevenzione non serve solo per le malattie cutanee così in genere, le malattie dermatologiche, ma serve proprio per evitare che il nostro corpo possa essere esposto alla possibilità di raggi ultravioletti in maniera intensiva che può portare anche al melanoma. Un campus per apprendere e approfondire la conoscenza della lingua inglese è il progetto che si sta svolgendo alla Scuola Salvatore Quasimodo, diretta da Maurizio Tedesco. Siamo andati a vedere. Giochi, canzoni, attività di cooperative learning, insomma apprendimento della lingua inglese e l'insegna dell'allegria e del movimento all'aria aperta, sono le caratteristiche del campus che si sta svolgendo in questi giorni alla Scuola Salvatore Quasimodo di Gela, diretta da Maurizio Tedesco. Siamo andati a vedere. Giunti sul posto, la prima sensazione è quella di essere travolti da tanta gioia e sentimenti di condivisione. Si tratta di una full immersion nella lingua inglese della durata di due settimane. I nostri alunni sono stati circa 70, i partecipanti, vengono qui dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, seguono delle lezioni anche se in maniera sempre giocosa e divertente con i nostri tutors ma della lingua. Le attività svolte dai ragazzi all'interno del nostro istituto, la Scuola Quasimodo che ospita il City Camp è già per la seconda volta ed è stata la prima scuola ad organizzare campi estivi lingua inglese a Gela. Sono molteplici, si parte da warm up mattutini con esercizi energizzanti e poi fanno delle lezioni in classe. Si passa poi alle attività del pomeriggio che hanno carattere ricreativo, sportivo e fanno anche moltissima drammatizzazione. I training tutors che vengono scelti dall'ACLE sono dei docenti laureati, studenti universitari o comunque insomma dei ragazzi provenienti da diversi paesi anglofoni che oltre a possedere un titolo accademico seguono un corso di formazione. Come stai vivendo questa esperienza? Questa esperienza è molto bella, questo è il secondo anno che partecipa al City Camp perché è molto istruttiva ma anche ludica quindi per ogni ragazzo che partecipa è un'esperienza magnifica anche per il rapporto che si crea con i tutor e con tutti i compagni. I giovani tutor sono anglofoni, incontriamo Sofì e Tim che provengono rispettivamente dal Canada e dall'Australia. Sono da Canada e mi devo amare se vengono. Ci raccontano con entusiasmo di questa esperienza che ritengono formativa non soltanto per gli allievi. Tim è a Gela per la prima volta ed è subito stato conquistato dalle bellezze paesaggistiche di Gela. Si soffre un po' il caldo ma dopo il lavoro si può godere di un rigenerante bagno al mare. Veniamo dal liceo scientifico Aglio Vittorini e abbiamo scelto di partecipare a questo campus perché per imparare l'inglese, per parlarlo correntemente ed è anche un'esperienza da fare per i bambini, stare con i bambini, fare un'esperienza nuova. Che esperienza è per voi studenti che date una mano ai più piccoli? Sicuramente è un'esperienza positiva dal punto di vista anche formativo perché comunque parlando ogni giorno l'inglese sia con i bambini sia con i tutors questo può aiutare sia noi che anche i bambini a imparare l'inglese in maniera magari più divertente di come lo fanno a scuola. Ombrellini colorati sul cielo di Corso Vittorio Emanuele a Gela si tratta dell'iniziativa dell'amministrazione comunale di Gela che tende a rendere più gradevole la passeggiata in centro. Questo genere di street art aveva debuttato qualche anno fa nella penisola iberica per poi essere replicato anche nella vicina Licata. L'amministrazione comunale in concomitanza con la stagione estiva ha concordato con Pintaudio Tolinea e l'istituzione di tre corse dei bus per collegare il centro urbano a Manfria ogni domenica e nei festivi oltre al servizio già attivo nei feriali. Da Gela verso Manfria le partenze sono previste dalla stazione centrale Capolinea alle 8, alle 13 e 30 e alle 18 e 30. Le corse di ritorno invece sono fissate da Piana Marina alle 8 e 45, 14 e 15 e 19 e 15. Al via oggi il triduo in onore della Madonna del Monte del Carmelo Venerata nell'omonima parrocchia di Gela. Il triduo sarà predicato da Don Luca Crapanzano, direttore del centro diocesano Vocazioni e vice-rettore del seminario Vescovile di Piazza Armerina. Ogni giorno alle 17 e 30 ci sarà il canto della tradizionale coroncina mariana e la celebrazione eucaristica animata dai vari gruppi presenti in parrocchia. Sabato, 16 luglio prossimo, giorno della festa. Oltre la celebrazione eucaristica con la benedizione dei bambini che inizierà alle 10 e 30 è prevista in Piazza Roma. La solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione degli ammalati e dell'unità al si. La festa si concluderà con la breve processione dell'antico simulacro della Madonna e fuochi d'artificio. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. La formazione si svolgerà sabato 30 luglio con inizio alle ore 9 presso l'aula di formazione della sede operativa di Via Falcone incontra da Brucazzi. Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato per il 28 luglio prossimo. Gli interessati per informazione e iscrizioni possono contattare gli uffici al numero 0933 914419. C'è anche un'email giubbeditalia-gela-chiocciolotmail.com, pagina Facebook Giubbeditalia-gela. Intanto sentiamo l'approfondimento in questo servizio. Sono circa 60.000 le persone che ogni anno in Italia muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco. In caso di arresto cardiaco improvviso un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce in modo statisticamente significativo a salvare fino al 30% in più delle persone colpite. La legge 3 aprile 2011 numero 120, la legge Balduzzi, prevede l'utilizzo del defibrillatore anche da parte di personale non sanitario. Inoltre è un obbligo di legge per tutti coloro che decidono di dotare la propria struttura di un defibrillatore frequentare dei corsi di formazione. Nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbeditalia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. Il corso si pone come obiettivo l'apprendimento da parte del partecipante dell'esecuzione efficace e sempre aggiornata, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo in maniera appropriata del defibrillatore semiautomatico. Il corso è realizzato secondo le linee guida American Heart Association, aggiornati al 2015, aperto a tutti i cittadini, anche per coloro già in possesso di attestato di BLSD ma non aggiornato, incaricati al primo soccorso aziendale o presso centri sportivi, soccorritori, medici e infermieri e risponde all'esigenza delle associazioni sportive di avere a disposizione personale formato abilitati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Durante la formazione non si apprenderà soltanto l'uso dello strumento ma anche le manovre della rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie respiratorie in base alle nuove linee guida. Oltre alla parte teorica ci sarà molto tempo da dedicare alla parte pratica per dare modo a tutti i partecipanti di imparare ad eseguire correttamente e tempestivamente le manovre di rianimazione a utilizzare il defibrillatore in diversi contesti. Per le varie prove ci sarà l'ausilio del manichino. Al termine del corso, superato l'esame finale e acquisito un punteggio, sarà rilasciato l'attestato di esecutore BLSD valutabile esensi del DM 30 gennaio 1982, esensi degli articoli 8 e 46 del DPR 761 del 79 che certifica l'idoneità come esecutore abilitato all'uso del defibrillatore semiautomatico. Inoltre l'attestato rilasciato è valevole ai fini di punteggio per concorsi e altre attività. Radio Gela Express compie 30 anni e per l'occasione organizza per questa sera a partire dalle 21 una festa nella suggestiva cornice dell'Eschilo Lab nel cuore del centro storico della città. Sul palco si alterneranno tecnici e conduttori storici che negli anni si sono succeduti nella nota radiogelese, cresciuta sempre più fino ad avere una sua sede anche a Vittoria. in diretta dall'Eschilo Lab saranno collegati volti noti che hanno contribuito alla crescita di Radio Gela Express dal 1985 ad oggi. L'ingresso è gratuito. La ladra di ricordi di Barbara Bellomo è il libro che sarà presentato venerdì 15 luglio prossimo in occasione del quinto incontro dei venerdì letterari presso l'Eschilo Lab. Dialogherà con l'autrice Marco Traenito. L'evento è organizzato dalla Libreria Mondadori di Gela in collaborazione con l'assessorato comunale alla Cultura. Salvaguardare il personale in servizio nelle ex nove province e impedire la loro mobilità oltre che garantire servizi essenziali erogati dagli enti. Con questo intento le segreterie sindacali, le RSU e i dipendenti si sono ritrovati in assemblea ancora una volta nell'aula consigliare della provincia di Caltanissetta. Una lunga riunione per fare il punto della situazione alla luce del primo incontro dell'osservatorio regionale con l'assessore all'economia Alessandro Bacei che ha chiesto l'applicazione della legge del Rio e di conseguenza la mobilità del personale scongiurata in questi tre anni. La prima riunione, la prima costituzione dell'osservatorio regionale stabilito, fissato dalla legge 15 che doveva finalmente dare vita a un organismo che doveva riorganizzare il personale, in realtà è stata una grossa delusione per tutti. L'onorevole Bacei ha esordito dicendo che non ci saranno questi 180 milioni per le risorse, per il personale e tutto, il quale dovrà andare necessariamente in mobilità. Era quello che noi avevamo scongiurato e che avevamo cercato assolutamente di allontanare con la promulgazione di questa legge che sinceramente è nata male, poteva solo finire peggio. E così è stato, è stata impugnata ben due volte, ha avuto un iter legislativo lungo e aggonsciante e poi con questo esito che ha visto l'altro giorno, il 7 luglio, alla presenza dell'onorevole Bacei con questa notizia bomba che a ripercussione andrà a ricadere non solo sul personale dell'ex provincia, ma sul personale precario che sicuramente sarà pregiudicato da questa mobilità. Un incontro per mettere in campo delle azioni eclatanti e di impedire il dissesto finanziario degli enti in assenza di un intervento del governo centrale per ridurre il prelievo forzoso oppure di una copertura finanziaria a carico della regione siciliana. Intanto una delegazione dell'ex nove province venerdì incontrerà il prefetto di Siracusa a sostegno dei dipendenti che da tre mesi non percepiscono lo stipendio. Le nostre azioni saranno eclatanti ma noi abbiamo delle proposte, le proposte sono due sostanzialmente, una che ci trasferiscano funzioni e risorse che ci mettano nuovamente in grado di funzionare, di evitare il disastro che da tre anni questi territori subiscono, vedi le strade, le scuole e quant'altro. Oppure ci trasferiscono tutti alla regione. Noi proporremo ai nostri colleghi di fare istanza per il trasferimento alla regione. Non possiamo andare nei comuni, non perché non ci vogliamo andare, ma perché noi siamo solidari con i lavoratori precari. L'associazione sportiva dilettantistica Mogela organizza il primo Memorial Emanuele Giuseppe Alabiso. La competizione si terrà presso la struttura sportiva di Viale Enrico Mattei. Il torneo è organizzato appunto dalla Mogela che è una società che è stata presieduta dal dottore Giuseppe Alabiso fino alla tragica scomparsa del novembre scorso e in cui è cresciuto il figlio Emanuele che ha militato nelle categorie della scuola calcio e del settore giovanile. Il Memorial si concluderà ad agosto. La Divina Commediole è lo spettacolo di Giobbe Covatta che andrà in scena sabato 30 luglio prossima alle 21.30 al Teatro Antidoto di Gela. La manifestazione rientra nel cartellone estivo dell'Arena all'aperto e il biglietto costerà 10 euro. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie a tutti, arrivederci.